Il mio album, My Sketchbook, è il titolo completo di un libro da me prodotto e progettato che nasce con l'intento di raccogliere alcuni dei miei disegni da quando ero molto giovane fino ai giorni nostri. Perché raccogliere disegni? Intanto il disegno lo reputo da sempre come la scrittura sostanziale, l'elemento essenziale dell'opera dell'artista visivo per cui sembra un elemento fondamentale della creatività dell'artista visivo e del pittore e semplicemente anche perché ho sempre amato moltissimo il disegno, soprattutto nella sua forma più immediata. Non sono un amante del disegno lezioso costruito in lunghi tempi e con procedimenti più o meno artificiosi per ottenere degli esiti magari apparentemente all'occhio della persona comune particolarmente esaltanti. Preferisco l'abbozzo, preferisco lo schizzo, preferisco il disegno veloce e non fintamente veloce, veloce di fatto e che tale rimane all'occhio, all'apparenza. Perché in questi disegni veloci c'è proprio la grafia dell'artista, direi di più la grafia dell'anima dell'artista. Ho inteso comunque regalarmi la possibilità di raccontarmi in un modo desueto, non legato alla scrittura, altra espressione creativa che amo moltissimo, ma preferisco così in questo libro ritrovare le tracce, i segni di emotività, storie, vicende, idee, progetti e propositi, sogni che hanno costellato la mia esistenza. Spero possa piacere a qualcuno l'idea di osservare questo mondo interiore dell'artista a prescindere, se vogliamo, anche della mia persona.